politica giusto? sempre ancora politica ormai da qui al 12 di giugno e poi avremo non l'abbiamo detto in senso dispregiativo anzi noi anzi è un servizio che molti stanno apprezzando che è quello che stiamo facendo alla città ai nostri concittadini sto parlando ovviamente di Como perché ci chiamiamo ciao Como e quindi ovviamente dobbiamo dare grande attenzione a quello che sta succedendo e tra pochi giorni ci sono le elezioni a politica meno di un mese allora noi in questi giorni abbiamo presentato tutti i candidati sindaci almeno i sei che c'erano poi se ne sono giunti due e le presenteremo nei prossimi giorni e poi le liste che continuiamo a presentare oggi con quella di Fratelli d'Italia con noi in studio il candidato consigliere Massimiliano Galli che saluto Ciao Como, buongiorno a tutti, buongiorno a te Massimiliano buon lunedì, buona settimana a tutti grazie dell'ospitalità ma ci mancherebbe, ovviamente il partito e la tua coalizione ti ha mandato e quindi noi ne siamo ben felici come ovviamente abbiamo invitato tutti gli altri carta di identità, chi sei? carta di identità, non mi emoziono a dirlo, ho 43 anni nato nel 79, cittadino comasco, sono di Camnago Volta di professione faccio l'avvocato, qua a Como, esercito qua a Como, ovviamente in tutta Italia ma sono di Como e convivo con la mia compagna che spero che mi veda la saluto e gli mando un abbraccio e presto diventerò papà anche bello grazie e allora doppi auguri ovviamente grazie mille perché Massimiliano la scelta di candidarti, di entrare nella lista, lo ripeto, di Forza Italia prima la tua scelta personale, poi parliamo anche di Fratelli d'Italia, della tua lista lista di Fratelli d'Italia, grazie Marco questa è una bella domanda che ha comunque tanti risvolti, perché? Perché amo Como perché amo Como e credo che Como abbia bisogno di gente come quella che è la lista a mio modesto avviso di Fratelli d'Italia che il partito ha comunque schierato, ha messo in campo di gente che vuole fare, di gente che, e questa è la campagna elettorale che stiamo facendo che è secondo me molto peculiare, di incontro con i cittadini un incontro con i cittadini, con maschi per capire le problematiche e per creare empatia quello che Marco vedo che manca un po' a Como è questo senso di appartenenza c'è un po', non lo so, cammini per strada, incontri la gente, vedi un po' di sfiducia ecco voi immagino avete girato in questi giorni, avete fatto incontri facciamo incontri, oltre che grazievo incontri, io ad esempio il 20 maggio prossimo quindi venerdì faccio un incontro con i cittadini di Camnago, insomma abito a Camnago e ho invitato, per chi volesse partecipare, un incontro con i cittadini di Camnago per cercare di capire con loro, confrontarci, incontrarci, quelli che sono i problemi cioè Camnago ad esempio è un quartiere come gli altri quartieri di Como che vanno secondo me valorizzati, vanno resi più vivi con tutta una serie di iniziative, che può essere dal bike sharing ad esempio quindi un discorso di viabilità, collegamenti più frequenti e più idonei tra il centro città e i quartieri stessi e soprattutto poi comunque, ripeto, quel senso di appartenenza dei cittadini faccio un esempio, un mercato a Camnago ah ecco, questo è una cosa che va, non c'è? non c'è, non c'è, quelle cose, è corretto ok, quindi non c'è, questo è un attuale un chiuschetto, un bar, un mattino ecco, Camnago è legato anche al nome di Alessandro Volta non dimentichiamocelo siamo a Como, la città di Volta proprio quel, sembra abbandonato ecco, se tu passi, cammini per Camnago, sembra abbandonato ad esempio anche l'ex birrificio ci sono edifici dismessi ecco, l'ex birrificio è chiuso, mi dicevi, giusto? sì, sì, è chiuso ti saluta Dina, ti saluta Alessandro ciao Luigi, Clara, Diana, Agnese buongiorno a te, Corrado, Marcella anche lei, Andrea dice che parla però di un'altra cosa e vabbè, comunque io vi chiedo sempre comunque il massimo rispetto e comunque per esprimere le vostre opinioni che comunque, va bene, sono assolutamente apprezzabili e vi ricordo anche che oggi pomeriggio alle 17.30 saremo a Rebio quindi per i cittadini di Rebio e di Breccia oggi venite vi aspettiamo al parcheggio di via Spartaco per sentire quelle che sono le problematiche con un camper saremo lì ciao ancora anche a Davide un abbraccio anche a te Giro dice parco della rimembranza Baradello non è certamente in condizioni idonee ci ha segnalato Max segnalazione che ovviamente grazie mille che colgo tu ne sei a conoscenza di questa cosa no Baradello no, non sono a conoscenza grazie alla segnalazione è proprio questa la finalità cioè l'incontro esempio di venerdì con i cittadini di Carunago per evidenziare le problematiche e questa lista, la lista di Fratelli d'Italia con ovviamente il nostro candidato sindaco Giordano Molteni ecco bravo, è giusto ricordarlo perché non l'ho ancora detto voi sostenete il candidato sindaco Giordano Molteni del centro-destra come Fratelli d'Italia capolista è il farmacista di Cuomo noto Roberto Tassone siamo una lista, una peculiarità Marco se mi permette è quaterosa, cioè nel senso tante 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 questa è una bella cosa, tante donne con tante idee siamo una squadra anche giovane siamo una squadra metà età media intorno ai 48 anni variegata, eterogenea dall'avvocato, dal capo stazione dalla dipendente tessitura tante tante figure che con tutte le loro idee con tutte le loro diciamo peculiarità ovviamente siamo qui per supportare Giordano Molteni e per cercare di rendere Cuomo molto più ecco questo è un po' l'obiettivo a partire da Marco tante problematiche ovvio, faccio un esempio della viabilità ti saluta anche Simone che è un tuo collega ciao Simone buongiorno Davide anche a te un saluto ciao a tutti Dina, sì l'abbiamo già salutata amici che ci possono dare anche dei suggerimenti ovviamente oggi con Massimiliano ci stiamo soffermando soprattutto perché lui la conosce bene perché lui abita lì anche Clara salutiamo, buongiorno dicevo la conosci bene la zona di Camnago dove abiti ecco e allora a proposito di Camnago Massimiliano andiamo subito magari a toccare il castro che è un po' più dolente forse che è quello della viabilità perché molti nostri telespettatori e radioascoltatori perché siamo anche in diretta radio probabilmente al mattino sanno che cosa vuol dire fare la Camnago molti la chiamano così che è la vecchia strada guarda Marco hai toccato un tema importante ti ringrazio, sorrido anche un po' ma lo sorrido con un'ironia che fa pensare che bisogna metterci in mano non bisogna lavorare ragazzi bisogna lavorare tanto perché io ad esempio sono di Camnago oggi per venire qua da voi sono svegliato all'alba c'è niente da fare perché se no ti fermi metti la viarenza e non vai più non vai più ecco le 7.20 direi che è l'ora un po' beh sì è fatidica se esci di casa dalle 7 va bene dopo le 7.15 diventa problematica o hai motorino o hai bicicletta o corri ecco a me piace correre ok però poi se devi andare in tribunale in studio per la viabilità tu hai detto io voglio cercare qualche idea poi ovvio bisogna mettersi sul piano del tavolo e studiare con l'ufficio tecnico perché non ricordiamoci che chi amministra poi si deve ed è questo anche un altro aspetto che questa lista deve e ha intenzione di approfondire quello che è il rapporto che deriva anche poi dalla mia esperienza che ho fatto ovviamente consigliere l'assessore anche al comune di Fenegrò per diversi anni ecco tu sei stato assessore alla viabilità alla viabilità proprio del comune di Fenegrò che chiaramente è più piccolo rispetto a Como ovviamente però è chiaro che le dinamiche sono quelle con le dovute proporzioni ma tornando alla viabilità signori via Rienza finita via Rienza e c'è un imbuto è inevitabile perché la strada si ovviamente riduce la careggiata diventa una sua e poi arrivano le vetture che scendono da Lipomo si mettono sulla briantea e si forma quella sorta di naturale imbuto poi passo io passi te magari un'idea Marco potrebbe essere che tu arrivi da via Rienza vai dritto per andare in via Dante e giri intanto alcuni lo fanno già che non si può allora ne approfittiamone giri a sinistra per andare lungo il Cosia quelli che arrivano da Lipomo e da Ermo non vanno verso via Dante passando per quell'imbuto ma fanno direttamente via Cosa quindi una sorta di deviazione obbligatoria tu dici per chi scende da Lipomo facendoli deviare sul Cosia mentre chi scende da Camargo va dritto senza l'intoppo diciamo così e quindi potrebbe essere una soluzione per fluidificare il traffico anzi direi di sì penso di sì grazie sì penso di sì e ovviamente via Piademi farla ovviamente in senso opposto perché consenti a chi lungo il coso poi di potersi rimettere in via Dante questo per dire un esempio ma anche Marco se ne parlavano di più rotatori di più rotatori io ah ecco sì bravo me stavi accennando anche questa cosa prego cioè voglio dire di fronte alla Ticosa una bella rotatoria che dà il benvenuto a Pumo con una fioriera con una bella scritta benvenuti a Pumo è una cosa secondo me che ovviamente ripeto la fattibilità perché poi devi vedere però lì c'è spazio ovviamente c'è spazio e quella ridurrebbe i tempi del semaforo e ridurrebbe ovviamente il traffico perché tu alleggerisci quella che è scorrevolezza della viabilità una bella rotonda lì all'ingresso anche finita via Milano per dire quindi una maggior maggior diciamo incisività di rotatorie e di aree anche pedonali allora sono molti che ti stanno salutando ringrazio ti conoscono ciao a tutti anche Simone dice che sei una bella persona è una bella notizia della tua discesa in campo e poi Corrado Davide e Marcella ricordiamo Massimiliano ha già fatto l'assessore in un altro comune sì l'hai ricordato giustamente ma la tua collega Marcella lo vuole rimarcare seguendo poi Ciao Como che sono vostro fan tu eri stato ma neanche tanto tempo fa proprio a Cannago mi viene in mente avevi fatto la vecchia via del tram sì ero stato bravo esatto ecco quello è un polmone verde comunque visto che tu sei anche un appassionato di running ci vai a cuore ecco ma secondo te c'è da migliorarla quella sicuramente sicuramente ma anche se ti faccio un esempio un chioschetto cioè se ti fermi finisci la passeggiata col tuo cane finisci la tua corsetta c'è sotto anche la chiesa e ti fermi ma il chioschetto la tua ipotesi è nella piazzetta di Camnago giusto e corretto? anche lungo la via del tram l'ex via del tram perché comunque non è breve Camnago Camnago che porta Ponte dei Bottini Ponte dei Bottini esatto e poi lì parco giochi qualche parco giochi qualche struttura per i bambini per i bambini perché tu passeggi i bambini possono e anche di esercizio ginico no? cioè voglio dire ci sono adesso le attrezzature l'ho visto nella zona della Valbasca partendo da Albate dove c'è l'ex polveriera ecco lì ne ho visti tanti di punti dove si può fare va a migliorare e poi l'ipotesi è questa? l'ipotesi è questa e anche un percorso comunque migliorare poi poi la fattività del percorso perché se corri rischi anche poi magari anche di farti male di inciampare perché poi e poi piste ciclabili sarebbe carino anche riuscire a capire come poter fare proprio un percorso esclusivamente per le bici che vanno in sicurezza ma dove? nella zona del tram? dell'ex tram? no lì? nella zona del tram diventa è un po' più stretta diventa un po' più complicato se si può valutare io parlo di piste ciclabili lungo per tutta come io credo esatto io parlo proprio mancano le piste ciclabili però dicevi parlavi di backsharing perché è proprio effettivamente il Cam Nago è un po' io parlo di poi anche il discorso di esatto di collegamento backsharing un servizio di dove tu a Cam Nago non c'è non c'è quel parcheggio di biciclette che il cittadino con la testa del comune può utilizzare che gli consentirebbe di evitare il traffico alle 7 e 20 imbottigliato in via Rienza va a lavorare in bici e ne guarderemo anche in salute allora molti ci salutano tanti di salute anche Silvia buongiorno Silvia si buongiorno e poi volevo dirti ah c'è anche chi ci chiede faccio una magari fai una valutazione Massimiliano ne hai ancora sei minuti di tempo ancora a disposizione sicurezza so che forse è uno degli argomenti che anche a voi come lista fratelli d'Italia ripeto sostengono Giordano Molteni Massimiliano Galli oggi qui con noi candidato consigliere prego guarda sulla sicurezza la lista siamo in prima battuta non più tardi di sabato con i consiglieri Marcella Fent Sergio De Santis e Giuseppe De Votella che ringrazio perché hanno avuto questa iniziativa ad Albate sempre quartiere quindi non si dimenticano i quartieri che sono importantissimi per Como e ad Albate si è parlato di sicurezza ragazzi si è parlato di sicurezza Baby Gang con all'inizio della campagna elettorale Giordano Molteni con l'onorevole Butti ha fatto proprio un incontro ha fatto una proposta di legge sul discorso di sicurezza su come poter ovviamente prevenire queste ipotesi criminose ragazzi allora uno dei problemi questo è molto complicato è legato facendo l'avvocato è legato anche aspetti sociali certamente questi ragazzi dove vanno dove vanno non hanno un posto allora anche qui ci sono molte aree di smesse io ad esempio nella campagna elettorale che sto facendo chi mi segue su Facebook lo sa o su Instagram la biblioteca per bambini una biblioteca esclusivamente per bambini a Como sarebbe meraviglioso l'impari in un posto sicuro in autonomia loro imparano a crescere acculturandosi quello che è importante è la cultura cosa su cui noi puntiamo molto come lista questi ragazzi non hanno un posto dove stare e quindi la mancanza di posti ovviamente è un incentivo parli di periferia o centro in generale in generale ma è chiaro che la periferia è il posto dove tu puoi andare se ne è parlato dal bate di vacchi e che spesso sono poi oltretutto Marco le piazze della chiesa piazze della chiesa certo dove tu ovviamente non sai cosa fare ti ritrovi lì e si creano problemi danneggiamenti vari tipi di reati quindi il problema della sicurezza è un problema fondamentale quello che Fratelli d'Italia la lista di Giordano Moltini tutto il centro-destra unito ha come impegno è quello di risolvere cercare di risolvere il problema della sicurezza questo è fondamentale Sergio De Santis già nostro consigliere è stato qua ospite assieme a Ferretti qualche settimana fa è un personaggio di spicco sulla sicurezza credo che bisogna intervenire anche proprio sollevando questioni con i cittadini stessi ad esempio un'idea Marco che mi viene in mente è anche di riproporre quelle vecchie assemblee di circoscrizione all'interno dei quartieri dove ci si riunisce una volta al mese e si parla e poi è collegato anche ovvio tutto un discorso pubblico di dove si si vanno a insinuare dove c'è è più disagio dove c'è più degrado anche e l'altro aspetto è il decoro quindi la prima della sicurezza non è la sicurezza in quanto è la sicurezza collegata a una serie di temi dall'illuminazione perché è chiaro che se ci sono parchi e spazi pubblici aree verdi bisogna farle però bisogna poi anche chiuderle guarda sono stato ad esempio l'altro giorno a Piuro con la mia compagna e per dire c'è una passerella mi piacerebbe tanto fare anche a Cuomo come sul lago di Garda una pista ciclabile lungo il lago come quella del lago di Garda la butto là non lo so è un sogno irrealizzabile non lo so e ci proviamo una pista ciclabile lungo il lago come quella del lago di Garda è un lago di Garda è un lago di Garda credo che la carenza di piste ciclabili sia stata evidenziata da parecchie persone da parecchie questo in effetti potrebbe almeno nella parte del primo bacino del lago poter davvero avere uno sbocco chiaro però bisogna trovare anche i posti soluzioni soldi ovviamente sai cos'è qui non c'è tanto da promettere perché poi comunque chi sarà l'amministrazione che scenderà in campo e che i cittadini di Cuomo decideranno di eleggere dovrà fare i conti anche con quelli che sono i finanziamenti con quelli che sono i soldi quindi la possibilità di spesa abbiamo ancora tre minuti anzi due minuti però c'è Andrea che come sempre ci chiede anche sugli impianti sportivi direi altro tema io te lo butto lì vuoi chiudere questi ultimi due minuti utilizzando parlando di impianti sportivi massimiliano parliamo a zero impianti sportivi a manetta punto finito il concetto lo sport è fondamentale lo dico da ex maratoneta fatto da 100 km non solo la corsa ovviamente non solo il calcio tutta una serie di strutture strutture idonee adeguate per ogni fascia di età attenzione perché anche questo è importante perché non è che solo i giovani lo sport è a 360 gradi e per tutte le fasce di età bisogna individuare e questo continua a fare continueremo a fare come lista che appoggia Giordano Moltini recupero delle aree dismesse recupero delle aree dismesse per creare palazzi palazzi palazzetti strutture dove poter praticare sport questo è il concetto ecco ovviamente l'impianto più atteso gli impianti più attesi sono piscina di Mugio palazzo del ghiaccio da forse sistemare credo e poi palazzetto perché in effetti al momento il palazzetto a Como non c'è le squadre la femminile di Albese che sia per atletica ma anche per un discorso ne parlavo con tanti concittadini anche tanti colleghi che hanno i figli dove mando mio figlio a giocare non c'è un campo sportivo non c'è un campo sportivo dove poter praticare il calcio lo sport a Como ce ne sono però va detto non è che non ce ne sono spesso però devi portarli fuori a Como sarebbe importante veramente creare spazi adibiti esclusivamente per lo sport è fondamentale Massimiliano grazie per aver rispettato i tempi Massimiliano Galli grazie a voi candidato consigliere la lista ai fratelli d'Italia allora noi oggi 17.30 saremo a Rebbio vi aspettiamo perché è giusto girare i quartieri e sentire che cosa dicono vi aspettiamo lì ciao Massimiliano ciao buongiorno grazie a tutti